E qui incontriamo Dario Dediero che è il titolare della Tanarella, è una cantina che produce quali vini? Il cavallo di battaglia è dato dalla Barbera d'Asti, in due varianti, Barbera d'Asti base e poi superiore, poi ci spostiamo sui bianchi, abbiamo un terra d'alfiere aranese, produciamo inoltre un Piemonte grignolino, produrremo un terra d'alfiere nebbiolo dalla prossima vendemmia. Quindi voi siete nel territorio delle colline d'alfieri, dove siete in particolare? Siamo a San Martino d'Alfieri, quindi a Cavallo, Fallellanga, Monferrato, Eroero anche. Esatto, esatto. E quindi qui i prodotti assumono delle peculiarità particolari perché i terreni sono molto diversificati? Assolutamente, assolutamente, a seconda di dove si è esposta la vigna otteniamo un'uva e di conseguenza anche un vigno con forte personalità.